Siete sui canali di LentiCar, automobili per tutti, Renault Clio Sport 1.5 DCI, 75 cavalli, unico proprietario, immatricolata nel 2014, è un Euro 5B, ha percorso solo 75.000 km, unico proprietario, aziendale, IVA Esposta, visioniamo l'ora nei particolari. L'abitacolo in perfetto stato, la vettura è finanziabile e ritiriamo l'usato, qui vediamo il chilometraggio, 75.000 originali certificati e abbiamo un anno di garanzia di conformità, cruise control, regolatore di velocità, impianto radio compresa USB, presa AUX e streaming audio, chiave a tessera e start and stop, il divano posteriore ha gli schienali abbattibili e gli attacchi ISOFIX per i sedili dei bambini. Guidabile da neopatentati e se siete titolari di legge 104 avete il livello 4%. Per altre informazioni chiamateci subito, ciao!